sindaco valiante buongiorno ben ritrovato sui nostri canali salve sindaco buongiorno allora è l'ultimo dell'anno oggi quindi l'ultima intervista dell'anno cominciamo con questa pronuncia dell'anac sulla presunta incandidabilità sindaco ce ne vuole parlare meglio la pagina sicuramente brutta è arrivata nei giorni scorsi il 23 qui in comune una nota una pronuncia del presidente avvocato busia presidente dell'autorità nazionale anticorruzione l'anac che ha statuito per così dire insieme al consiglio generale dell'anac a firma del presidente la insussistenza di ogni motivazione di ogni causa richiamata da alcuni anonimi anonimi mi correggo da alcuni segnalanti a me sconosciuti circa la mia incandidabilità al comune di baronissi per aver ricoperto e per ricoprire contemporaneamente all'incarico di sindaco il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione del consorzio sociale valle dell'irno il lanac che l'autorità anticorruzione ripeto ha smentito in maniera assoluta argomentando via di diritto tutte le fantasiose ipotesi prospettate e costruite dai segnalanti ripeto a noi sconosciuti così come pure non era nota a noi né al sindaco né agli organismi alla segreteria generale ad altri organismi del comune l'inoltro di questa nota all'anac eravamo del tutto ignari ne abbiamo avuto contezza al momento della ricezione ripeto lo scorso 23 dicembre dunque smentita in maniera ufficiale e definitiva questa incandidabilità a sindaco di baronissi inconferibilità di incarico del da presidente del consiglio di amministrazione è la cosa che turba oggettivamente che fa cadere veramente diciamo quelle che sono i valori della politica non è neppure tanto diciamo il quesito il ricorrere ad un'autorità che può esprimersi ma come è stata portata avanti la cosa io voglio ricordare non ne ho mai parlato in 18 mesi ma questa volta vengo tirati per i capelli che questa della incandidabilità del sindaco valiante fu una battaglia in occasione della campagna elettorale del primavera del 2019 portata avanti allora dalle liste dei tre candidati sindaci moscatillo galdi e siniscalco che poi alla fase del ballottaggio si coalizzarono tra di loro con un unico cavallo di battaglia quello di ottenere la incandidabilità del sindaco valiante quindi l'annullamento delle elezioni io voglio ricordare questa cosa è stata smontata adesso definitivamente dall'ana che io ritenevo che fosse sopita che fosse una questione chiusa con la campagna elettorale ricordo che il giorno di chiusura della campagna elettorale quando la mia squadra il sottoscritto vinse l'elezione io aderi con piacere perché è normale che sia che fosse così all'invito del candidato galdi di pensare al bene della città e quindi di mettere alle spalle quella che è stata una campagna elettorale veramente dura voglio ricordare che coloro i quali sostennero con convinzione da tutti i palchi della dei comizi elettorali che il sindaco che il candidato sindaco valiante sarebbe stato rimosso se eletto perché sarebbe venuto un commissario che si sarebbe di nuovo votato perché incandidabile perché provvisto di incarichi inconferibili beh io ricevevo all'epoca nonostante le consapevolezza che fosse una bufala giuridica perché non ci può essere alcuna fondamento giuridico in queste ipotesi prospettate dai signori ricevevo messaggi telefonate o visite dei cittadini i quali erano convinti che se fossero se avessero votate mi è votato me il il comune sarebbe stato commissariato si sarebbe votato di nuovo nonostante noi avessimo diffuso una pronuncia grazie ai nostri legali e voglio ancora ringraziarli avvocato gioia avvocato si volella avvocato apicella intervenne in una circostanza anche il procuratore apicella a sostegno della nostra tesi che è quella del diritto ebbene questo fu la credine e l'aggressività di una campagna elettorale fondata su questo eppure io ricordo bene che all'inizio della candidatura del capo dell'opposizione di ora si parlava di un loro bel progetto per baronissi di un grande progetto per baronissi che per la verità non ho ancora conosciuto non conosco ancora né l'azione amministrativa in 18 mesi mi ha dato possibilità di conoscere probabilmente i tre candidati sindaci perché poi al ballottaggio si riunirono si apparentarono si allearono tutti contro il candidato sindaco valiante e furono soronamente sconfitti perché il sottoscritto fu eletto col 54,50 per cento dei voti contro il 45,50 di tutti e tre i candidati sindaci di tutti e tre i candidati sindaci diceva forse il cavallo di battaglia il progetto che loro presentavano era quello della incandidabilità questa pagina si chiude oggi fortunatamente definitivamente è una pagina di subburra politica di quella che allontana sempre più la gente dalla politica dalle istituzioni e credetemi sono amareggiato per questo perché noi abbiamo le nostre liste hanno candidato e abbiamo portato in consiglio comunale persone giovani sulle quali costruire anche una classe dirigente con le quali lavoriamo sono mi permetto di chiamarli così consiglieri assessori ragazzi che si impegnano per il bene della città ma questa vicenda della incandidabilità è sicuramente una pugnalata alla bella politica alla voglia di coinvolgere persone e portarli ad interessarsi del bene pubblico chiudiamo questa pagina di subburra politica ci concentriamo sulle cose da fare molto meglio ma è una pagina amara che resterà nella storia nella storia della città di baronissi bene sindaco cambiamo argomento ci soffermiamo sulle scuole cominciamo tempo fa i lavori che sono adesso terminati ecco diamo contezza ai cittadini parliamo di cose belle parliamo di cose positive di cose che noi facciamo parliamo di servizi che vanno in direzione dei nostri bambini dei nostri ragazzi parliamo di servizi che vanno in direzione delle nostre famiglie della scuola della formazione ovviamente l'auspicio è che questo contesto di pandemia passi al più presto comunque si atteni in maniera tale che le scuole veramente possano finalmente riprendere in presenza da parte nostra c'è tutta la motivazione la voglia dopo aver valutato ovviamente i dati epidemiologiche il contesto generale di riaprire in presenza le scuole dicevo che sì finalmente le abbiamo ricevuto dalla impresa che ha eseguito i lavori le scuole di aiello le scuole di baronessi capoluogo fra qualche giorno riceveremo anche per per fine dei lavori la scuola di infanzia di antessano e quindi i lavori eseguiti su queste scuole per un milione e mezzo circa di euro le prime due scuole aiello che consegneremo sabato alla dirigente scolastica la professoressa rosa pepe e la scuola di baronissi capoluogo che consegneremo martedì 5 alla dirigente rosa pepe perché possa aprirle il 7 gennaio ove come speriamo come lo spieghiamo e come vogliamo le scuole dovessero riaprire in presenza sono scuole completamente rifatte anzitutto rese conformi alle prescrizioni alle rigorose prescrizioni antisismiche quindi sono scuole adesso antisismiche realizzate anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico con la sostituzione di infissi interni e esterni con il rafforzamento strutturale dell'intero complesso quindi delle pareti, dei solai ed anche delle fondamenta con il rifacimento totale di tutti gli impianti, impianti idrici, idraulici, termoidraulici, impianti elettrici pavimentazioni nuove, insomma una scuola completamente nuova due scuole completamente nuove, tre scuole completamente nuove le consegniamo con entusiasmo perché credo che siamo uno dei pochi comuni non dico in Campania, in Italia ad aver realizzato questi lavori che sono stati fondamentali credo che la scuola d'Aiello e la scuola di Capoluogo non venissero interessati da lavori così importanti almeno da 50 anni adesso i nostri bambini, i nostri alunni avranno possibilità di stare in una scuola più attraente, più verde, più sostenibile, più accogliente anche gli spazi sono stati ripensati ovviamente insieme ai vettici scolastici per dare possibilità anche di attività didattica e formativa più funzionale ecco siamo veramente contenti ripeto sabato consegniamo le chiavi virtualmente alla dirigente scolastica le chiavi della scuola d'Aiello martedì 5 le chiavi della scuola del Cosimato della scuola di Baronissi Capoluogo dopo qualche giorno consegniamo le chiavi sempre alla Rosa Pepe della scuola di Antessano di Antessano infanzia è un momento sicuramente bello è un momento che abbiamo fortemente voluto perché il tutto è stato realizzato i lavori sono partiti, i grandi lavori sono partiti dal mese di agosto o di fine luglio adesso non ricordo con la sistemazione ovviamente di tutti gli atti amministrativi burocratici l'inferno delle carte che si devono sistemare, realizzare e mettere su quando ci sono opere pubbliche ma devo ringraziare l'impresa che ha lavorato anche il sabato anche la vigilia di ferragosto che hanno lavorato mattina e sera a pieno ritmo, a pieno regime devo ringraziare i tecnici del Comune l'ingegnere De Simone, direttore dei lavori il RUP, l'architetto Landi devo ringraziare insomma anche la scuola devo ringraziare tutti perché veramente per Baronessi queste scuole riqualificate, sistemate rese sicure dal punto di vista sismico sono un momento importante, una pagina importante ovviamente non saremo a fare inaugurazioni perché il contesto non lo consente ma sicuramente andremo pian piano, poco alla volta a salutare gli alunni che saranno, l'auspice è questo a lavorare, a studiare in presenza presso queste scuole completamente nuove di livello sicuramente europeo bene, sicuramente un'ottima notizia bene Sindaco, ci lasciamo alle spalle un 2020 terribile e quindi un augurio ai cittadini di Baronessi di un anno che sia, speriamo, diverso bene Sindaco, vi lascio questo spazio per gli auguri abbiamo vissuto un anno veramente inimmaginabile fino a qualche mese fa nessuno si aspettava nessuno poteva mai pensare una roba del genere e il pensiero va subito purtroppo alle vittime Baronessi che è una cittadina di media grandezza ha perso 10 i suoi concittadini per effetto del Covid sono tanti persone che anche conoscevamo persone tranquille persone che lasciano il segno di una Baronessi che ha insegnato che ha trasferito che ha tramandato quelli che sono poi i valori i modi di vivere gli usi le consuetudine di oggi pensiero a quelle persone a quelle famiglie io voglio salutare per prima dando ancora solidarietà affettuosa solidarietà ma devo ringraziare e voglio salutare l'ultimo dell'anno tutta la comunità perché è stata nei momenti di difficoltà abbiamo avuto anche panico preoccupazione abbiamo reagito in maniera a volta emotiva ma è stata Baronessi una città una comunità civile composta che ha saputo comprendere magari anche con qualche ritardo da parte di una frangia di una parte della cittadinanza quali fossero i comportamenti da adottare nell'interesse e nell'interesse di tutti abbiamo avuto anche momenti difficili di decisioni complicate il fatto è che due mesi fa avevamo ricordo bene il tetto 272 persone contagiati oggi 31 dicembre ultimo dell'anno siamo a 92 non possiamo cantare vittoria ovviamente perché io temo sempre non abbiamo vissuto a Baronessi che un focolaio da un momento all'altro possa svilupparsi ecco a questo dobbiamo stare attenti ma insomma credo che i cittadini abbiano tutte la consapevolezza la responsabilità e la civiltà di adottare di continuare a mantenere i comportamenti prudenziali c'è il vaccino aspettiamo il vaccino speriamo che in 4-5 mesi riuscirne o cominciare a riuscirne intanto dobbiamo resistere e investire con questi comportamenti per il nostro futuro e io approfitto di questo ringraziamento che faccio a tutti per veramente augurare a tutti quanti innanzitutto alle persone e alle famiglie che sono state colpite sono tante dal Covid o per aver perso qualche parente amico o per aver contratto la malattia quindi il contagio ma voglio salutare veramente tutta la città e augurare che il 2021 al più presto 2020 stasera finalmente sarà spazzato via e che il 2021 sia un anno della speranza della rinascita del ricongiungimento e del ritorno alla vita normale abbiamo tanto bisogno di normalità un pensiero non può andare ai tanti cittadini alle tante persone che hanno avuto disagi hanno perso il lavoro che hanno avuto una riduzione del lavoro che hanno disagi anche nel portare avanti con tanta dignità con tanta dignità una vita senza le risorse cui erano abituate perché il lavoro in tanti ambiti è venuto a meno un pensiero veramente di solidarietà il Comune ha cercato di fare il massimo con le poche risorse che ha ma ha cercato di stare vicino a tutti probabilmente potevamo fare di più potevamo fare meglio ma l'impegno è stato assoluto perché sentiamo questa responsabilità e io voglio augurare anzitutto a queste persone alle persone che hanno sofferto dal punto di vista del profilo sanitario ma anche dal profilo sociale e commerciale un abbraccio e un augurio che si riprendano presto che ritornino tutti agli standard di vita che si viveva prima dell'avvento di questo virus disgraziato anzi che si migliori il tenore di vita che si recuperi dal punto di vista economico sociale e anzitutto prima di tutto dal punto di vista sanitario auguri a tutti buon 2021 alla città di Baronessi a tutti i nostri concittadini grazie 죄 bruja che sempre Grazie a tutti.